Siamo in volo per New York, ci stiamo preparando per andare all'ONU con due incontri molto importanti e abbiamo bellissimi progetti. Attualmente stiamo lavorando in volo con i nostri computer ma ci stiamo anche godendo il viaggio. Grazie per la visione! Siamo al Museo di Storia Naturale, il Natural History Museum. Siamo Buriaki, da quante cose abbiamo visto. Siamo alla Central Station a New York e stiamo per fare un esperimento sociale. Siamo nell'Empireside Building, un grattacielo altissimo imponente. Come ho costruito questo palazzo. Siamo al One World Trade Center e stiamo proseguendo la nostra intervista, il nostro esperimento sociale. Per sentire una cosa bella di sé fa sentire più. Siamo a tutti. 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 Siamo emozionati, sia perché non sappiamo cosa potrebbe accadere oggi, chi possiamo incontrare, in qualsiasi momento possono nascere delle collaborazioni, dei nuovi progetti. Abbiamo appena concluso l'evento dedicato alla giornata internazionale delle famiglie. Siamo qui nella sede dell'ONU, ci stiamo rilassando e ci stiamo preparando per l'evento di domani. E qui tutto è pronto, io ho fatto un'ottima colazione, pronto all'ombrello, ma soprattutto sono pronta io per un incontro all'ONU che avverà tra poche ore. Sono molto felice di andarci, potrebbe essere un incontro veramente molto importante. Abbiamo creato tantissime relazioni di collaborazione in occasione di questo evento all'ONU e si stanno offrendo le collaborazioni internazionali. Questo è bellissimo perché abbiamo un grande fine comune che è il miglioramento. Stiamo girando nelle salle dell'ONU per fare degli incontri di lavoro. Stiamo a girando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.